Buongiorno Buongiorno giornata fredda ma insomma sprendente in cosa posso esserli utile? un film, due film, quattro film transgender, teens sadomaso nulla di così stravagante un film un po' datato qualcosa che mi ricordi la mia giovinezza tipo? non so qualcosa di vintage c'è qualcosa Fratelli Lumiere cosa? no no niente ecco i sedi no 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 niente niente e i sospers la stanza viene igienizzata prima di ognuno prego e quanto tempo posso rimanere in questo gioiello sterilizzato? anche tutta la vita questi vecchi nastri hanno il potere di rimettere al mondo d'accordo buona visione ciò che sto venendo sto venendo o 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